Traffico a rilento sull'altopiano delle Cinque Miglia della Statale 17 in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo in atto. In Alto Sangro, come vedremo dalle immagini, si circola a passo duomo. Rallentamenti dalle prime ore di questa mattina per via della nevicata che ha imbiancato Rivi Sondoli, Roccaraso, Pesco Costanzo e Castel di Sangro. Qualche auto è rimasta impantanata nella Coltre Bianca con conseguenti disagi per il traffico e l'intervento del personale dell'ANAS nella zona. E intanto a Molina Terno il sindaco Luigi Fasciani ha emanato un'ordinanza per chiudere ai vicoli e pedoni l'accesso al ponte di via della Fonte. L'infrastruttura, secondo il primo cittadino, presenta rischi seri e concreti di cedimento da cui il provvedimento adottato proprio nel corso dell'ondata di maltempo in atto per evitare problemi sul fronte della sicurezza dei cittadini e automobilisti.